Buongiorno amici di Universo Foto, sono Mirko Poppi e oggi siamo all'UCOP 2022. Siamo in compagnia di un nostro partner, ma prima la sigla. Oggi siamo a UCOP 2022, United Colors of Photography, manifestazione in cui siamo partner, noi in qualità di Toscana Photo Service Universo Foto, della manifestazione. Durante la manifestazione, avendo avuto un ottimo feedback nel 2019, abbiamo riproposto e allargato il nostro spazio inserendo a fianco di noi un nostro partner Universo Foto, il nostro partner locale che è Simon Service. Come vedete abbiamo a fianco, al mio fianco, la azienda Simon Service, ho alla mia destra Simone, alla mia sinistra Nazareno, i due titolari e Gianluca il referente di uno dei due punti vendita di Simon Service. Simone, ciao, grazie ovviamente di essere ospite anche della manifestazione e di essere di supporto, perché comunque direi che sia stata una manifestazione in cui ci sono state tante interesse e anche tante vendite. Molto interesse, molta adesione, molto coinvolgimento, soprattutto dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, è stato bellissimo riproporre una soluzione come questa, dove i fotografi e gli appassionati si sono incontrati, hanno parlato tra di loro, hanno interagito e si sono scambiati opinioni. Hanno potuto testare i prodotti con gli stand di Canon, Universo Foto e Simon Service, in alcune occasioni hanno potuto acquistare direttamente presso il nostro stand. Come partner Universo Foto, partner Canon, abbiamo potuto dare diverse soluzioni, diverse iniziative che hanno, credo e mi auguro, rincuorato gli appassionati fotografi di questa categoria. Continuiamo a proporci noi con i nostri due punti vendita, uno a Tortoreto Lido e uno a Pescara, dove accogliamo tutti con un sorriso e cerchiamo di dare la soluzione più precisa alle esigenze di ognuno. Ecco, direi che Simone sei stato precisissimo e mi hai già anticipato la domanda, perché ti avrei voluto chiedere per la platea e quindi per tutti i nostri follower che ci stanno seguendo di raccontare anche un po' dell'azienda Simon Service quando è nata. Non so se vuoi parlare tu o se vuoi lasciare la parola a Nazareno. Sarò breve. Simon Service è giovane, ha poco meno di tre anni, nasce dall'esperienza pregressa presso altri fornitori e grazie ai nostri rapporti tessuti in vent'anni siamo riusciti già a partire con delle solide collaborazioni con le più grandi case di importazione tipo Canon, Sony e grazie anche all'Universo Foto che ci ha permesso di accelerare soprattutto con i loro prodotti, con la loro struttura di diffusione, siamo riusciti a aprire un altro punto vendita, gestire un flusso di clienti che altrimenti sarebbero stati un attimino disorientati dalla mancanza di punti vendita o punti di approvvigionamento di forniture che in questi ultimi anni sono venuti a mancare. Simon Service si rivolge a tutta la platea di amanti, fotografi, professionisti e appassionati a 360 gradi, che significa? Noi riusciamo o crediamo di riuscire o ci proviamo, ce lo auguriamo, di dare le soluzioni più appropriate per ogni esigenza di tipo fotografico e video. Quindi serviamo dal fotografo al filmmaker. In più abbiamo diverse iniziative che vanno dall'usato fotografico al nuovo, alla permuta, al noleggio, l'affitto di sala pose e l'affitto di strumentazione. Ultima creatura di Simon Service è SOS Photo Video, che è questo, che è un nuovo portale nato quest'estate, che permetterà di mettere in comunicazione fotografi e videomakers on demand, in last minute, che significa? Si iscriveranno tutti i fotografi e i videomakers che metteranno a disposizione la loro prestazione d'opera e a chi dovrà trovare in last minute, nelle ultime 12 ore o 7 ore, secondo fotografo o un videomaker d'appoggio, potrà consultare il portale dove vedrà la disponibilità di questi fotografi e videomaker in tempo reale. Questo è un portale che sarà operativo da qui a breve, ancora non è pronto, però ci auguriamo di andare veloci. Chiaro, ecco, immagino a questo punto, vista come hai raccontato, come hai presentato la tua realtà, che avendo tanti anni, anzi, avendo immagino tutti voi tanti anni di esperienza, perché immagino che non solo tu Simone, ma anche voi siate già dentro nel mondo della fotografia da un po' di anni, siate molto radicati sul territorio, quindi il fotografo, professionista, l'amatore, il videomaker, professionista, amatore, le aziende comunque vi conoscono. Collaboriamo da 25 anni ormai con diversi fotografi, il nostro spazio è più o meno Marche Abruzzo, Costa Est Adriatica e l'interno. gestiamo circa mille clienti, quindi ci conosciamo tra di noi, perché non vediamo il cliente come un cliente, ma un amico, con cui ritrova in noi un partner, più che un punto vende dove comprare e basta. Si parla, ci si relaziona, ci conosciamo ad una vita, andiamo avanti, sempre col sorriso però. Bene, io direi Simone che sei stato veramente esaustivo, non so se tu Nazareno hai qualcosa da aggiungere. Ovviamente ringraziamo l'organizzazione e chi ci ha ospitato in questa magnifica struttura, con i servizi che ci ha offerto, sicuramente è stata una bellissima iniziativa. Speriamo che questa cosa possa dare sviluppo a tutto quello che c'è nel mondo fotografico e agli appassionati del settore. Ringraziamo chi ci ha sponsorizzato Universo Foto, la struttura Canon che ci ha ospitato, che ci ha dato fiducia e speriamo di ripagare al meglio questa opportunità. Bene, io direi che sia stata una bella chiacchierata, quindi voi che ci seguite, voi delle Marche, dell'Abruzzo, appassionati di fotografie e di video, se già non conoscete Simon Service, vi posto in descrizione i loro riferimenti, il loro sito, il loro numero di telefono, le location dei due punti vendita per poterli contattare, andare a visitare e andare anche a provare i vari prodotti e avere le migliori quotazioni che loro possono dare e trovare ovviamente tutti i prodotti importati dal gruppo TFS che il punto vendita, i punti vendita Simon Service hanno in pronta consegna presso i loro punti vendita. Ringrazio ovviamente tutto lo staff di Simon Service, ringrazio UCOP, ringrazio tutti i partecipanti e da UCOP direi che sia tutto. E ci vediamo alla prossima. Ciao, buona giornata. Grazie. Grazie.